La banda della spaccata torna in azione e stavolta fa rumore. Nel Mirino ancora una volta un negozio di Via Libertà, segno che i ladri hanno individuato le prede del centro storico e le griff della moda per arraffare tutto il possibile. Questa volta a finire nel Mirino sono stati il negozio Louis Vuitton di Via Libertà e il bar bistro di Via Villahermosa nell'omonima via, in pieno centro. Il colpo più grosso è stato quello ai danni della celebre insegna della griff francese. I ladri hanno spaccato la vetrina che dà su Via Nicolo Gallo con un grosso martello di legno poi abbandonato sul marciapiede e hanno portato via borse, portafogli e accessori tutti firmati Louis Vuitton. Ancora da chiarire a quanto ammonti il colpo, ma parliamo di decine di migliaia di euro a cui vanno aggiunti anche i danni al negozio. Poi, probabilmente, la stessa banda è entrata in azione nel piccolo bistro ad angolo tra Via Villahermosa e Via Bentivegna, proprio a pochi passi dal commissariato di polizia Politiama. Una volta infranto il vetro della porta principale, hanno messo a soquadro l'intero locale in cerca di contanti. Per entrambi i colpi, la polizia ha chiuso la zona e acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza del negozio e anche quelli installati nella zona per cercare di identificare chi ha messo in segno i colpi. Ed è l'ennesimo colpo, sempre con la stessa modalità. Lo scorso 15 aprile erano stati rubati soldi e giubbotti da Griffey Outlet in via Mariano Stabile. A marzo i ladri avevano messo a segno un altro colpo nel locale di Nasser all'interno dell'area Quaroni e a febbraio erano stati colpiti i centri scommessi e la città. Insomma, la bandella spaccata è sempre più persistente sul territorio, con la media di un colpo al mese.